Penso che... io sono preoccupato quando la paura diventa... la paura fa dei danni molto più gravi dei virus e credo che in questo momento la paura sia un sentimento che deve esistere. Io quando ero in Afghanistan mi trovai a faccia a faccia una situazione molto pericolosa, guardai negli occhi i paracadutisti vicino a me, avevano la stessa paura mia. Io odio e temo chi non ha paura, perché è un incosciente, ma la paura non può dare l'elemento dominante. Ripeto, tu parli di tutti una serie di medici importanti, ma ci sono altrettanti medici importanti in Italia, ne cito uno, l'Agismondo che sta lì, ore, H24, a Milano, al sacco, che dice mamma mia, stiamo un po' calmi. Ecco, quando tu fai, ripeto, rispetto alla Francia, più di 25 mila tamponi, a fronte di mille tamponi, è chiaro che trovi molti più persone contagiate, è una questione di percentuale. In Francia ne hanno fatti mille, ne hanno trovati quasi 200, quindi siamo intorno al 20%, è la stessa dinamica italiana. Forse noi, io non ho detto che con... Io dico che in questo momento una cosa importante sarebbe che il Premier o Mattarella facesse un discorso alla nazione da persone che possono e hanno credibilità e parlassero, raccontassero davvero come stanno le cose. Non dobbiamo avere paura di... Il mondo non si può fermare per questa cosa. Allora... Ma dobbiamo stare attenti, Massimo. I medici non vanno nei... Viene a vedere, tutti negli nostri ospedali i medici vanno dentro scafandrati, non lo fanno perché si divertono. Se Burioni, se Galli, se tutti i nostri maggiori virologi e non solo italiani dicono questa cosa non è la peste bubonica, ma trattiamola molto seriamente. Il rischio adesso è di rilassarci troppo, spaventarci troppo, hai ragione, è un errore madornale. Io non è che sono qui, sono stato al Corriere della Sera, non è che sono chiuso in casa. Però mollare adesso è molto pericoloso, secondo me. Ecco, io credo anche che ci vorrà un pochino di tempo per capire chi ha fatto quali errori, perché in effetti le incognite sono ancora troppie. Se un Presidente di Regione, che capisco, che fa fatica, parla con una mascherina, non dà un messaggio di sicurezza. No, ha dato un messaggio soprattutto sbagliato, perché la mascherina la deve usare chi è infettato per non contagiare gli altri. Allora, la gente non capisce, in questo meno si parla. Ci vuole un uomo solo al comando nelle difficoltà. E appunto, infatti Conte è andato anche nella tua trasmissione domenica di dieci giorni fa per cercare di rassicurare il più possibile.